Nascite e morti. Nel silenzio allucinato, innesca l'ombra nella stanza senza finestre, incontrollabili paure. Frenetica la mente, accartoccia pensieri e sentimenti, e annulla menzogne e volgari infingimenti d'una qualsiasi delle tante vite uguali. Scompaiono in un pozzo abbandonato i giorni colorati di malinconia, le speranze senza futuro e aborti di illusioni. Resta un'arida spia di sogni bruciati nel fuoco, delle scelte che affiorano alla mente come stranite fonti di rimpianto e delle domande irrisolte, abbandonate alla periferia del tempo, l'ultima valica a quel passo. E subito sconfina al di là della vita l'anima deserta. Così si snocciola il rosario di nascite e di morti, e s'alterna il Cristo inchiodato e l'uomo di potere, che violando esseri indifesi di idee e atteggiamenti promuove e opera un discutibile ricambio.